buongiorno a tutti ragazzi oggi parleremo di una cosa importante la serra e la temperatura all'interno appunto di quest'ultima io utilizzo da quest'anno una serra molto molto carina presa semplicemente alla Lidl costo intorno ai 39 euro devo dire che sono tra i soldi meglio spesi che io abbia abbia speso nell'ultimo nell'ultimo anno prima utilizzavo una piccola serra che è ancora attiva ma dove tengo i bonsai il problema di queste di queste serre il problema che ho riscontrato nelle serre da balcone quelle piccoline per intenderci che costano una ventina di euro e l'aumento della temperatura anche se la si tiene aperta quindi anche nei periodi invernali piante come le nostre che comunque hanno bisogno del periodo del periodo vegetativo di riposo ci ritroviamo ad avere temperature assurde all'interno della serra parliamo ad esempio in questo momento con la serra completamente aperta e il sole che ci picchia dentro tramite questo dispositivo possiamo vedere che la temperatura è intorno ai 16 gradi e mezzo questo mi permette di questo apparecchio mi permette di monitorare la temperatura della serra sia all'interno sia diciamo all'interno della serra da dentro casa per questo motivo riesco ad aprire e chiudere la serra abbastanza rapidamente soprattutto al fine settimana durante la settimana quando io lavoro la serra tendo a lasciarla aperta la cosa interessante la cosa di cui vi volevo parlare oggi era una dimensione la dimensione di una serra allora come sapete come vi ho già detto io abito in una zona di montagna e per questo motivo è obbligatorio per me per la coltivazione di determinate piante come può essere cefalotus o come può essere anche nell'ambito bonsai il ficus retusa che è questo per chi non lo sapesse che è ancora fuori nonostante da me in questi giorni anche in sera la temperatura sia scesa sotto i meno due anche qua bisogna fare un pochettino di chiarezza per esperienza personale il problema che io ho riscontrato sono le gelate prolungate mi sono morte delle piante naturalmente come a tutti tenendole all'esterno della serra quando le temperature si mantengono in pieno inverno sugli zero gradi per più giorni consecutivi quindi gelate prolungate la gelata prolungata chiariamo un attimo anche questo concetto non è il fatto che la temperatura per due ore di notte vada a meno tre il problema è quando la temperatura si mantiene costantemente a meno tre per una settimana questa è una gelata prolungata tutti i giorni a meno tre per due ore ma poi la temperatura sette otto dieci gradi per alcune piante non parliamo naturalmente delle nepentes non è assolutamente così traumatico certo non è la loro condizione la loro condizione migliore questo a a parer mio adesso andiamo un attimo a analizzare la serra la dimensione della serra io personalmente ho trovato come dicevo prima la miglior combinazione di serra dimensione in questa serra c'è secondo me questa questo è il minimo di dimensione che potete che potete prendere se avete parecchie piante questa serra è due metri di altezza un metro e novanta per un metro e quaranta per un metro e sessanta questo è il minimo nel senso con la porta aperta riuscite a mantenere una temperatura come vi dicevo prima adesso in pieno sole di 16 gradi se chiudo la porta qua dentro va oltre i 35 altra cosa di cui di cui volevo volevo parlare oggi allora le pinguicole le pinguicole io le tengo in serra anche loro quelle messicane le tengo in serra e le tengo in una posizione molto particolare che è questa praticamente adesso ve la vi faccio vi faccio vedere io tengo le pinguicole messicane in una parte bassa frontale rispetto alla porta della serra in maniera che prendano bene la luce del sole eventualmente la mattina ma la cosa importante è che siano ben appoggiate al muro questo mi permette di fare una cosa di avere una cosa importantissima che è la temperatura stabile che non ghiacci mai le pinguicole sono ancora in fiore e devo dire che nel fino adesso non mi hanno dato non mi hanno dato problemi dovessero sopraggiungere come dicevo prima gelate prolungate mi premunirò sicuramente di portarle di portarle in serra adesso facciamo una piccola carrellata delle piappe se il video vi è piaciuto mettete un mi piace noi ci vediamo domani durante la diretta di andrea amici e buona coltivazione a tutti mi raccomando iscrivetevi anche al canale amici e buona coltivazione a tutti mi raccomando iscrivetevi anche al canale